Solo due anni fa Isernia, con l'amministrazione da Pollonio, aspirava a diventare la capitale italiana della cultura. Oggi, dopo due anni, viene definita dalla pagina Worst City la peggiore città del mondo. Sabato scorso, su YouTube, è stato caricato un video dell'utente Worst City, un profilo fake, diventato subito virale sui social. Isernia, un tempo centro industriale e culturale vivace, scrive Worst City è diventato un'ombra di se stessa. Un video dal quale prendiamo le distanze, ovviamente, e che esprime un giudizio pessimo e poco lusinghiero sulla nostra città. L'autore del video descrive una città abbandonata da Dio, ma ci pare eccessivo definire il capologo Pentro la città peggiore del mondo. Se ci guardiamo intorno, ci sono città che versano in condizioni ben peggiori della nostra. Ma ora, per dovere di cronaca, vi mostriamo il video che è diventato virale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.